Ciao bimbi! Eravamo rimasti che avevamo scacciato il virus con le manine, vi ricordate l'altra volta? Poi l'avevamo schiacciato bene con la macchina, frenando, andando in retromarcia, avevamo aperto il finestrino, controllato che non ce ne fosse più e l'avevamo ancora schiacciato bene sull'asfalto. Adesso andiamo a vedere dentro tutti i cassetti e tutti gli esportelli della nostra casa per vedere che non ce ne sia rimasto un po'. E lo schiacciamo anche lì, cosa ne dite? Mettiamo la musica dell'altra volta. Gambette unite, manine sulle ginocchia, prendo la maniglia e la tiro, apro bene il cassetto e schiaccio. Prendo la maniglia e chiudo il cassetto. Apriamo un altro cassetto e schiacciamo bene. Riprendo il cassetto e chiudo i due piedini. Prendo una maniglia e apro uno sportello. Sbircio un pochettino, apro bene, guardo bene, richiudo, giù lo sportello. Ci sarà nell'altro sportello? Andiamo a dare un'occhiata. Apriamo un pochettino, sbirciamo un pochino. Lo apriamo bene. Bene, qua non c'è. Appiccico e chiudo lo sportello. Appoggio due gambette. Apro farfallina. Controlliamo bene l'armadio. Prendo un'anta dell'armadio. La apro. Guardo un pochettino, guardo un pochettino, ci sarà. Puliamo bene l'armadio. E lo richiudo. Apriamo l'altra anta. Prendo bene il talloncino che è al mio pomolo dell'armadio. Lo apro. Guardo un pochettino. Pulisco bene l'armadio. Giù la manina. E chiudo. Prendiamo le due ante. Afferro bene i talloni. Vado un po' indietro. Prima mi guardo un po' in torno. E apriamo. Vediamo se c'è. C'è. Non c'è più. Meno male. Chiudiamo l'armadio. Guardiamo bene. Anche con i binocoli. Lontano. Lontano. E ci riposiamo un po'. Ciao bimbe. Speriamo di vederci presto.